Fernando Parna, Nino Belloni era come un secondo padre? Ma sì, diciamo che era una cosa reciproca, anche quando era vivo mio padre, io l'ho trattato sempre come un secondo padre perché veramente lui mi è stato sempre vicino, ma a parte adesso il lato sportivo, il Mattiotti, che è una cosa marginale, ma anche come famiglia, eravamo molto legati, eravamo molto legati, sì. Una grande amicizia quella con Fulvio, erano veramente, come diceva lei, tanto legati. Sì, l'avventura, se vogliamo tornare sul lato sportivo, l'avventura di Mattiotti l'hanno iniziata insieme e chi prima e chi poi purtroppo è stata costretta a lasciarla, però come stavo dicendo prima a te, in via del tutto personale, adesso si possono rincontrare gli amici di un tempo, lui, Alfonso, mio padre, e così rifarsi la partitina che si facevano tutti i sabbati. Di Nino ho condiviso l'organizzazione del trofeo Mattiotti per circa un trentennio, perché lui è arrivato dopo che io avevo cominciato a fare lo speaker, col gruppo sportivo Fernando Parna, che porta appunto il nome del primo presidente, Fulvio, fratello scomparso. Il trofeo Mattiotti venne organizzato nel 1945, la prima edizione vinse Mario Ricci, poi l'anno successivo vinse Gino Bartale, la prima edizione partecipò a Coppi. Allora Nino per me è stato come un par nel ciclismo, perché nel lontano 1972 fu lui che mi portò all'interno dell'organizzazione del Matteotti, quindi è stato tutto. Poi mi portò nella sua segreteria del comitato regionale della federazione ciclistica, però Nino per me è stato, come ho detto prima, un par, un par perché mi ha dato tutto nel ciclismo, mi ha insegnato tutto e oggi è un brutto giorno, un giorno triste per il ciclismo abruzzese e anche oltre.